Il Partito Radicale ha fatto questa scelta in un congresso aperto a tutti gli iscritti, chiunque è venuto, ha potuto esprimere il suo parere, presentare documenti, difenderli, quindi votare. Non esiste che il giorno dopo aver partecipato a un congresso, presentato documenti, illustrato documenti, votato documenti, si dica che quel congresso non ha valore. Se non ha valore ci sono altre sedi per valutare se quel congresso è legittimo, illegale o quant'altro. Siccome si continua ancora, è passato un anno da quel congresso, non è accaduto nulla. Noi abbiamo avuto il congresso del Partito Radicale e di associazioni sino al momento del congresso del Partito Radicale Costituente che nel giro di un mese, un mese e mezzo, hanno avuto i loro congressi e le loro mozioni e non si sono riconosciuti nelle scelte del congresso del Partito Radicale. Buon viaggio, tanti auguri e fate quello che volete. Perché? Perché era già accaduto qualcosa prima. Era già accaduto ad aprile che il gruppo dirigente di una delle associazioni costituenti del Partito Radicale decidesse di presentare a Roma e a Milano, la vergogna milanese la dimentichiamo troppo spesso, a Roma e a Milano delle liste radicali. Decisero quattro persone di convocare nella sede del Partito una riunione e presentare un simbolo. a Roma in sostegno di Roberto Giacchetti, a Milano con un candidato autonomo. Ecco, io credo che non ci sia da commentare, come non ci sono da commentare le emozioni dei vari congressi, delle varie associazioni. Non c'è da commentare ancora? A me basterebbe, se devo spiegare ancora oggi qualcosa, rimandare. Ma rimandiamo in onda il congresso di settembre. Rimandiamo in onda il congresso di settembre. Rimandiamolo, c'è stato il dibattito, riascoltiamolo. È passato un anno. Nessuno ha ritenuto di dover non fare un passo indietro, ma una riflessione in avanti, rispetto a una semplice questione, la questione elettorale, perché di quello stiamo parlando. Allora, il Partito Radicale ha ribadito nel suo ultimo congresso e per l'ennesima volta che non è un partito concorrente, che non si presenta alle elezioni. Ci si scrive al Partito Radicale, ci si scrive sapendolo, leggendo lo statuto, non ci sono scopi sociali. Gli scopi li stabilisce il congresso anno per anno. Poi ci si può iscrivere anche per organizzarsi, per il congresso successivo, per cambiare tutto. E quindi chi vorrà poi cambiare tutto, proverà a cambiare tutto, e chi vorrà continuare una storia, la continuerà da un'altra parte. L'abbiamo detto al congresso. L'abbiamo detto al congresso. Adesso voler piegare quelle scelte congressuali al momento elettorale, e non è una cosa che ci riguarda, ci interessa o potrà interessarci. Dico come partito. Il Partito Radicale non ha di queste aspettative, non dà di queste aspettative. Perché abbiamo deciso, sulla base di un'analisi che mi pareva condivisa, da molti almeno, e c'è stato sempre chi non ha condiviso l'analisi, sul caso italiano, la peste italiana, sull'utilizzo da parte degli organi di informazione, di succedanei, diciamo così, delle lotte radicali, per meglio anestetizzare le lotte radicali, per meglio censurarle, avendo qualcun altro che poteva, più o meno ragionevolmente, essere la vera opposizione, l'opposizione al regime, nel regime. Il Partito Radicale questo ha pagato sempre. Il non aver voluto far parte del regime, e il non averlo fatto, per difendere alcuni principi essenziali della vita democratica. E non è un caso che negli ultimi tre anni, solo alcuni di noi, solo alcuni di noi, quelli che hanno presentato poi la mozione al congresso di Re Bibbia, hanno continuato a lavorare con Marco, per rilanciare da un punto che è quello della transizione verso lo Stato diritto, cioè del ritorno alle origini che hanno determinato quella che è la democrazia e quant'altro. Andiamo con le prossime due telefonate, 064880541, Pordenone, pronto. Ciao, Maurizio, sono Stefano Santarossa. Ciao Stefano. Allora, per dire che sono tra i firmatari, condivido quanto Spadaccia ha scritto nella sua lettera, sono iscritto al Partito Radicale, mi sono iscritto proprio per questo tentativo di dialogo, dico di più, vorrei anche dare una mano nella raccolta firme sulla proposta di legge per la separazione delle carriere, non ho contatti con nessuno che attualmente sia portato avanti questa iniziativa, quindi sono disponibile. Questo è il mio modo per cercare un dialogo, un dialogo che possa aiutare ad arrivare a quelle che sono le nostre battaglie comuni. Quindi mi attendo che ci sia da parte vostra una scada... Stefano, benissimo che ti sia riscritto al Partito Radicale, è difficile però pensare che si possa dialogare poi con chi? Con gli eletti da un congresso illegittimo e che a partire dall'illegittimità di quel congresso si incardina un dibattito? Ma di che state parlando? Dopo un anno un tentativo di dialogo per mettere in discussione la legittimità del congresso, ma di che stiamo parlando? Allora va bene, vuoi raccogliere le firme sulla proposta di legge dell'Unione Camere Penali? Fai come noi, vai a cercare le Camere Penali, facciamolo insieme. Il dibattito politico si fa sulle lotte, sulle agende. Vogliamo andare a riprendere la lettera di Rita Bernardini al congresso di radicali italiani? Sulla giustizia si ruppe, sulla questione giustizia. Il dossier di Deborah anche. Basta con la giustizia, basta con le carceri, basta col caso italiano, perché comunque qualche spazio, qualche anfratto in cui sedersi si trova sempre. Poi se sei radicale, meglio ancora. Meglio ancora. E allora se ci si scrive su quella mozione, o ci si scrive però, lo abbiamo sempre previsto, che ci si potesse iscrivere, non essendo d'accordo su quella mozione, per organizzarsi per il congresso successivo. non c'è nulla di scandaloso. Quale dialogo? Dibattito. Dibattito congressuale. Si stabiliscono quelle che sono gli obiettivi, abbiamo stabilito l'obiettivo dei 3.000 iscritti. Stefano, ricorderai sicuramente qualcuno che all'indomani dell'obiettivo dei 3.000 iscritti ha incominciato a scrivere su Facebook hanno stabilito 3.000 iscritti per chiudere il partito. Previsione sbagliata. Previsione sbagliatissima. Perché non stiamo cercando comunque di raggiungere i 3.000 iscritti. Stiamo cercando comunque di costruire il partito. Quindi noi abbiamo questo compito che ci deriva da un'assunzione di responsabilità. ognuno si assuma la sua responsabilità. Ti assumi la responsabilità di pensare che quella roba è illegittima? Procedi col dialogo. Ma stiamo scherzando? Per arrivare a un punto di caduta che è la mozione di dire Bibbia. Ce ne poteva essere un'altra? Certamente c'è stata. Contraposta, sì. Certo. Ma ce ne poteva essere anche un'altra di agenda politica. E non c'è stata. c'è stata una mozione contrapposta che dice quello che dice. Basta leggerla. Non la devo neanche commentare. Non voglio commentarla. Anche perché dice è stata commentata in congresso. l'ha commentato il congresso col voto. Con il voto. Anche se non si stanno sempre a sottovalutare l'importanza del voto anche in un congresso. Un congresso che è aperto agli iscritti. E non solo. C'era la preoccupazione in carcere, le difficoltà. Ci sono stati più partecipanti degli anni precedenti. E anche i provocatori che hanno voluto fare entrare a due ore dalla conclusione sono entrate le persone. Non c'è stato uno che si è presentato ai cancelli e che gli è stato detto non si può. Noi abbiamo stabilito 3.000 iscritti perché era un dato oggettivo rispetto alle esigenze minime di un corpo politico. È stata una nostra valutazione giusta o sbagliata. È stata sbagliata la valutazione del ritenere che quello era un scamotage per chiudere il partito. Si credeva davvero che noi volessimo chiudere il partito di Pannella? Bene i fatti li smentiranno perché io so e i compagni che sono impegnati sanno che hanno un obiettivo il 31 dicembre entro non è che aspettiamo l'ultima ora è che comunque per la prima volta non ci saranno 2.990 aspettiamo altre due ore no il 31 dicembre è finita se non abbiamo 3.000 iscritti che è una goccia è una goccia non è la dimensione nostra è il tentativo di riprendere un cammino ai 3.000 iscritti è il primo passo perché abbiamo ben altri obiettivi ben altri e quei tre punti della mozione di Re Bibbia lo stanno a dimostrare puntiamo molto più in alto del consumare l'attualità dell'infilarci nel buchetto per andare a finire in televisione del raccogliere dossier e fare i lobbisti sotto mentite spoglie no non ci appartiene cioè non è la nostra cultura non è la nostra storia di militanti del del Partito Radicale quindi noi continueremo sempre più ostinati su questa strada la vita delle lotte del Partito Radicale lotte che stabilisce il congresso del Partito Radicale a cui partecipano tutti gli iscritti il Partito Panegliano ci sarà comunque cioè non si può cancellare quella storia a cui tanti hanno dato una mano convinti poco non si fa l'esame del sangue quel che è stato è stato ma quel che è è quel che è non può essere coperto da quel che fu è passato ognuno ha la sua storia e i suoi comportamenti la sua la durata non era la forma delle cose non lo è più poi uno può anche durare nell'aver comportamenti scorretti rispetto alle regole che aveva accettato quando ha cominciato a frequentare il Partito abbiamo avuto tante persone che da parte di diciamo militanti sono state considerate dei traditori che non hanno tradito per niente che a un certo punto della loro vita hanno ritenuto di per le loro convinzioni ci fossero altri strumenti altri mezzi altri partiti che potessero aiutarli a raggiungere non solo degli obiettivi personali ma degli obiettivi politici poi non ci sono riusciti va bene non fa niente ma nessuno ha mai contestato questo le durissime contestazioni di Pannella che andremo a risentire che selezioneremo così capiamo di che stiamo parlando sono sempre state relative a coloro che volevano normalizzare il Partito Radicale che ne volevano fare uno dei partiti ma Pannella non era uno dei leader politici era quello è quello se noi oggi andiamo a leggere cose vecchie io penso che parecchi di coloro che non stanno molto ben capendo quello che sta succedendo e che quelle cose in quel momento le ascoltavano anzi no erano presenti ma le davano per scontato quindi non le ascoltavano se le ascoltassero oggi ma io ero lì applaudivo intervenivo sostenendo quello e com'è che adesso facciano esattamente l'inverso perché? perché c'era un problema nel partito ed era Pannella e i dibattiti congressuali stanno a dire quello e gli interventi precongressuali su notizie radicali che è scritto è scritto cioè qui non stiamo parlando di mi ricordo che quella volta Pannella disse no stiamo parlando di quello che Pannella disse ed è registrato di quello che Pannella scrisse ed è scritto e allora andiamo io penso che sia un esercizio utile non solo per compagni di vecchia data che adesso magari intravedono qualche scorciatoia è dall'inizio che c'è sempre stato qualcuno che ha intravisto qualche scorciatoia peccato che alla fine c'era il burrone è peccato per loro che questa storia continua ad andare avanti certo senza Pannella e quindi è un'altra storia è inevitabile che sia un'altra storia per cui qui non c'è né un altro Pannella né dieci persone che possano sostituirlo appunto ognuno di noi è unico nella sua presenza terrena e qualcuno è unico anche nella sua presenza extraterrena e questo è quello che oggi ci fa avere la convinzione non di avere ragione e gli altri torto siamo convinti della giustezza di quell'analisi quella che condividevamo tutti siamo convinti che oggi più di ieri quell'analisi è giusta siamo convinti oggi più di ieri che il regime italiano comincia ad essere anche pericoloso perché ha compreso come riuscire a muoversi senza creare senza dare adito e possibilità che si crea un'opinione pubblica contraria consapevole e questo lo sono riusciti a fare grazie al fatto che si sono esercitati col partito radicale che hanno compreso bene qual è il punto di attacco non è parlarne male e poi è tacere Marco negli ultimi tre anni da questi microfoni chiedeva il dibattito nel partito il confronto con alcune persone da questi studi non con il presidente della repubblica che andava e gli parlava quei radicali le ruone di mezzogiorno no? quei radicali che gli negavano parola posso andare oltre che gli negavano saluto che gli attribuivano degenerazioni che lui ha dimostrato fino all'ultimo momento di governare e ci sono registrazioni in cui a Marco gli si faceva presente che con la sua scomparsa ci sarebbero stati una serie di problemi e quindi cercare di a dopo non era affare suo lui non c'era più non poteva determinare il dopo lui lui lo sapeva ma lo sapevamo anche noi che qualsiasi cosa avesse detto scritto no? qualsiasi testamento sarebbe stato stracciato e quindi se ci sono gambe per far camminare quelle idee cammineranno se non ci sono non cammineranno magari le scopriranno fra 50 anni e io nelle mie ambizioni e la mia ambizione è quella di lasciare quanto prodotto da Marco in modo ordinato perché dire abbiamo 500.000 ore di pannella vuol dire non abbiamo niente dire ci sono 3.000 ore di comizi vuol dire non abbiamo niente bisogna andarle a guardare selezionare renderli udibili visibili e farli vivere perché io credo che e si scoprirà lo stiamo scoprendo anche noi andando avanti che in tutta quella produzione cerebrale quel continuo concepire che rivendicava c'è tanto materiale per il futuro non nostro per il futuro per il futuro quello lontano io ne sono convintissimo ed è per questo che come lui diceva ci sono momenti in cui la durezza ha un costo bisogna pagarlo e noi lo stiamo pagando lo stiamo pagando sia in termini personali ciascuno di noi io su facebook non ci sono e quindi non rispondo a chi scrive su facebook qualcuno ha qualcosa da dire me la dicesse e io gli rispondo il resto non mi interessa so benissimo che se andassi su facebook dovrei stare dalla mattina alla sera a difendermi a difendere delle posizioni quindi io penso che Radio Radicale è la nostra ventotene cioè mentre tutto il mondo va in un altro verso come diceva Sheriff Bassioni noi dalla nostra ventotene continuiamo a pensare a organizzare a scrivere quel sogno che dopo poco sarebbe potuto diventare realtà noi continuiamo a scrivere le pagine dello stato di diritto della democrazia della legalità della giustizia giusta e di tutto quello che al potere non interessa ma che è nell'interesse dei cittadini che sia non solo compreso ma sostenuto maudì